Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa dell'Inter di FC Internazionale prima di Liverpool-Inter, galla valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. Abbiamo con noi il nostro allenatore Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni. Cominciamo subito con le domande per loro e cominciamo con la domanda di Gazzetta dello Sport. Non ti sentiamo Davide? Al mister volevo chiedere, una sola volta 1-0-2 è stato ribaltato nella storia della Champions League nei turni a eliminazione diretta e questo fa un po' capire la dimensione della difficoltà della partita. La domanda è banale ma è giusto farla. Quanto credete davvero che sia possibile rimontare questa partita? Quanto invece questa partita è utile anche in ottica del resto della stagione? Invece ad Alessandro Bastoni volevo chiedere cosa cambierebbe della gara di andata? Chiaramente risultato a parte, insomma c'è qualcosa da correggere o in termini di prestazione sarebbe corretto? Basterebbe ripetere quel tipo di prestazione. Grazie. Io penso che per quanto riguarda la partita d'andata purtroppo ci ha penalizzato il risultato. Secondo me abbiamo fatto una grandissima gara dove purtroppo il risultato è stato troppo penalizzante per quello che si è visto sul campo. Adesso sappiamo che abbiamo una partita difficilissima contro una delle squadre sicuramente più forti d'Europa ma andremo con grande fiducia a giocarcela con tantissime motivazioni. Della partita d'andata ovviamente cambierei il risultato perché penso che non rispecchi quello che si è visto in campo. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo messo in difficoltà il Liverpool che sappiamo tutti che storia europea abbia. Ovviamente ci sono stati penalizzati, non sarà facile andare ad Anfield a riprendere un 2-0 ma abbiamo fiducia, abbiamo visto gli errori che abbiamo commesso all'andata e proveremo a metterli in difficoltà domani. Corriere dello Sport? Salve Alessandro, una domanda per entrambi. Ad Alessandro volevo chiedere se comunque nella sua carriera pur breve gli era mai capitato di trovarsi di fronte un tridente forte come quello che si è trovato di fronte all'andata con il Liverpool se è stata la prova più difficile a livello di reparto anche se poi si gioca come reparto il tuo giudizio su questo tridente al mister volevo chiedere lo scorso anno non era stato molto fortunato nell'accoppiamento degli ottavi con il Bayern Monaco quando allenava la Lazio la seconda partita in quel caso era una partita chiusa dal risultato dell'andata stavolta sembra diverso anche in virtù del fatto che è cambiato il regolamento nelle coppe ovvero che i gol in trasferta non valgono più doppio e nell'ottica di un piano gara cosa è fondamentale secondo lei mister? Segnare nei primi minuti tenere la partita più in bilico più viva possibile evitare di subire magari una rete nei primi minuti che condizionerebbe? Grazie Ma io penso chiaramente come ho detto prima partiamo da un punteggio di svantaggio è normale che per noi sarebbe importante cercare di trovare di trovare un gol nel primo tempo sarebbe l'essenziale però sappiamo che sarà una partita molto molto difficile però abbiamo avuto tre giorni per prepararla i ragazzi sono concentrati hanno lavorato bene sappiamo quello che incontreremo insomma insieme al Bayern Monaco e Manchester City secondo me è la squadra più forte d'Europa in un grande stadio con un pubblico molto caldo però insomma è bello vivere serate del genere è stata bellissima la gara di andata a parte il risultato davanti ai nostri tifosi questa volta sappiamo che nel loro stadio sarà ancora più difficile rispetto alla gara di San Siro Per quanto riguarda il tridente sicuramente ho affrontato già giocatori forti come possono essere stati Cristiano Ronaldo Benzema Vinicius quindi top top player europei Salah Mané Diogo sicuramente sono dei giocatori fortissimi ma al di là di questo domani ci servirà una grande partita ci servirà un grande spirito di gruppo giocare in certi stadi serve a me e a tanti giocatori che comunque è la prima volta che giocano una partita di questo livello livello europeo servirà a crescere e prendere ancora più consapevolezza Corriere della Sera prego mi sentite buongiorno a tutti volevo fare una domanda prima al mister e poi a Alessandro a Simone Inzaghi volevo chiedere questo al di là della qualificazione o meno difficile pensi che questa partita possa dire qualcosa in più sulle reali possibilità dell'Inter in Europa cioè se è a livello se può essere a livello di queste grandi o se c'è ancora troppo gap con certe squadre prima facevi i nomi di qualcuno Liverpool, Bayern, Monaco e via discorrendo ad Alessandro invece volevo chiedere se come siccome la difesa prepara una partita contro uno degli attacchi più forti del mondo se fa qualcosa in particolare grazie ma io per quanto riguarda il passaggio insomma noi sappiamo che era tanti anni che la società insomma non arrivava negli ottavi di finale chiaramente abbiamo fatto un girone fatto molto bene abbiamo meritato ampiamente le qualificazioni poi chiaramente nel sorteggio non non c'è andata benissimo però essendo arrivati i secondi sapevamo che avremmo trovato un avversario molto molto importante è normale che bisogna la crescita passa attraverso degli step noi abbiamo affrontato la gara d'andata nel migliore dei modi faremo sicuramente altrettanto domani sera a Liverpool giocandoci le nostre le nostre carte sapendo che troveremo uno stadio un avversario guerrito però cercheremo di fare del nostro meglio e da queste partite secondo me cresceremo ulteriormente tutti perché sono partite uniche nelle carriere sia da allenatore che da giocatore per quanto riguarda la preparazione della partita è normale che si va ad analizzare poi in base alla squadra che trovi l'attacco che hanno però il Liverpool è molto forte in tutti i settori quindi più che singolarmente bisogna fare una grande partita di squadra per cercare di limitare i loro punti forti ecco quindi più che a livello singolo abbiamo provato e proveremo domani a mettere in difficoltà proprio sotto il profilo di squadra Repubblica buongiorno mister buongiorno Alessandro volevo fare una domanda per uno volevo chiedere al mister se arrivare a una partita così importante dopo una vittoria per 5-0 da morale cioè se ci arrivate con lo spirito giusto e invece Alessandro Bastoni volevo chiedere se essendo diventato essere diventato papà ti ha dato nuove energie ti ha dato forza ti ha dato buon umore che riesci a portare anche nel lavoro grazie mille ma per quanto riguarda arrivarci dopo una vittoria è normale che che fa piacere venerdì avevamo una partita non semplice che siamo stati bravi a farla diventare semplice perché abbiamo sbloccato il risultato insomma verso il ventesimo poi siamo stati bravi nella gestione abbiamo avuto il dominio della gara e quindi insomma è una vittoria che in questo momento ci voleva a livello soprattutto di testa e adesso come ho detto prima siamo pronti per affrontare questa grande squadra domani sera a Liverpool essere diventato papà sicuramente è un'emozione completamente diversa di quella che si può provare in un campo in un campo da calcio sono due cose sono due cose ben distinte però quello che è certo è che avere una famiglia a casa che ti dà tranquillità e ti trasmette serenità poi è più facile è più facile tutto giocare a calcio trasmettere positività quindi sicuramente mi ha aiutato tanto faccio una domanda al mister sul post giornata di campionato cioè ieri sera Pioli ha detto che sarebbe corretto a questo punto del campionato che tutti avessero le stesse partite le chiedo cosa pensa di questa considerazione e quanto avete voglia anche voi in qualche modo di giocarlo questo recupero di Bologna per tirar via quell'asterisco e capire effettivamente chi è primo e chi è secondo e ad Alessandro invece chiedo una domanda sull'approccio alla partita quanto è bello vivere questa vigilia anche dal punto di vista del fascino andare a giocare in uno stadio così importante come Anfield Road grazie ma per quanto riguarda il recupero di Bologna insomma a me mi sarebbe piaciuto giocarlo il 6 di gennaio però purtroppo non ci hanno dato la possibilità adesso c'è un ricorso in corso e quindi anche noi come Pioli stiamo stiamo aspettando che ci venga detto quando è possibile recuperare il match per quanto riguarda giocare in stadi come Anfield sarà un'emozione bellissima già quest'estate ho assaggiato cosa sono gli stadi inglesi con la finale a Wembley che fortunatamente è andata a favore nostro e ripeto servirà sia a me che ai miei compagni a crescere e prendere consapevolezza a livello europeo Sport Italia e poi le ultime due con FC Internews e FC Inter 1908 Mister Salve volevo chiederle qualora il risultato si metta in una maniera come dire difficilmente recuperabile potrebbe pensare verso il sessantesimo di dire bene gestiamo le forze per il campionato e chiedo ad Alessandro se il 5 a 0 ha chiuso la crisi di come dire la crisi di autostima che si era vista contro il Genoa e contro il Milan nel terreno di Coppa Italia ma io ti dico speriamo speriamo che questo che tu hai detto non non succeda sappiamo l'importanza e soprattutto la difficoltà della gara che andiamo che andiamo a disputare è normale che in questo periodo per noi c'è stato come tu spesso hai sottolineato un grande dispendio di energia è vero sia fisica ma soprattutto mentale ma io penso che partite partite del genere ti danno ti danno grande carica e cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi poi chiaramente anche domani come tutti i giorni nella vita ad allenatore dovrò fare delle scelte iniziali delle scelte a partite in corso ma il 5-0 dell'altro giorno non ha chiuso nessuna crisi perché di crisi non ce n'erano noi abbiamo sempre avuto fiducia in noi stessi fiducia l'uno nell'altro siamo un gruppo forte solido non ci sono mele marce all'interno ed è questo quello che conta quindi ti ripeto abbiamo sempre avuto fiducia l'uno nell'altro e il 5-0 la testimonianza dei giocatori che siamo e della fiducia che c'è tra di noi sc internews buon pomeriggio a entrambi mister volevo chiederle visto che non c'era nell'ultima partita Ivan Perisic quali sono le sue le sue condizioni in vista di questa di questa gara se è completamente recuperato oppure no e ad Alessandro Bastoni intanto faccio le congratulazioni visto l'annuncio di ieri su Instagram e le chiedo anche se in vista di questa di questa partita insomma il fatto comunque di dover giocare contro giocatori che hanno una velocità di base molto ma molto importante può essere comunque per voi un motivo di attenzione ancora superiore al di là del fatto che poi hanno caratteristiche per cui chiaramente hanno anche altri punti di forza ma per quanto riguarda i convocati domani stanno tutti stanno tutti bene sono tutti convocati tranne Barella che è squalificato e Kolarov che è fuori lista per il resto insomma partiremo in 23 per Liverpool Per quanto riguarda l'attacco ovviamente dovremmo stare attenti perché come ho detto in precedenza sono dei giocatori molto forti a livello top europeo però penso anche che se non ci sia voglio se abbia paura di giocare certe partite bisogna cambiare mestiere quindi non vedo l'ora arrivino le nove di domani per scendere in campo L'ultima FC Inter 1908 Prego Una domanda al mister e una bastone al mister chiedo il presidente Steven Zhang è molto presente anche fisicamente in questo periodo come vi sta sostenendo e se ha già fatto magari un discorso alla squadra al gruppo in vista di domani e a bastoni chiedo invece come si sta ambientando Gosens visto che negli ultimi anni vi siete sempre un po' sentiti e confrontati come ha rivelato lo stesso Robin grazie ma per quanto riguarda insomma il presidente è tanto tempo che è qua sempre con noi o allo stadio qui agli allenamenti fa fa enormemente piacere la sua vicinanza come la vicinanza insomma di tutta la dirigente insomma parlo di di Marotta Antonello Ausilio e Bacine che sono sempre qua insieme a noi pronti insomma ad aiutare sempre la squadra qualora ce ne fosse il bisogno ed è ed è importante sia per me che per la squadra la loro vicinanza per quanto riguarda Robin avevamo un bel rapporto già a Bergamo e ci siamo sentiti tanto in questi anni perché comunque io ho tante amicizie a Bergamo quindi ci torno spesso viene da un infortunio lungo quindi ha bisogno di tempo e condizione per tornare al top però anche lui è consapevole di essere arrivato in un grandissimo club è molto contento è molto contento e soddisfatto di essere qua e speriamo di averlo al top il più presto possibile grazie a tutti buon pomeriggio a domani ciao buongiorno ciao